Siamo tornati nei nostri studi, quarta parte del nostro programma, rigorosamente Lupe Basket, giallo-nero il colore dominante, parliamo di questo weekend con Riccardo Andretta, responsabile della comunicazione delle Lupe, bentornato Riccardo. Grazie, buonasera. E accanto a te il capitano del Fanola, Claudia Amabiglia. Ciao Claudia, bentrovata qui con noi. Allora, cominciamo dalle note liete, cominciamo con te Claudia, perché per il Fanola in A2 è arrivata la quarta vittoria stagionale contro Sarcedo, 55-43. Beh, comincia ad essere importante il numero di vittorie che state ottenendo, ve l'aspettavate questa? Sì, sabato è stata una partita tosta, perché Sarcedo, sapevamo, sarebbe stata una squadra molto ben strutturata in difesa soprattutto. Ma diciamo che stiamo affrontando tutte le partite allo stesso modo, ovvero senza troppo guardare chi c'è di fronte pensando più al nostro. Quindi cercando di mettere in campo il meglio che possiamo, soprattutto essendo molto giovani e poco fisiche, la nostra caratteristica più che ci contraddistingue, diciamo, è il fatto di lottare, di metterci molta energia, molta voglia. E sabato è stato un esempio lampante, infatti siamo riusciti a condurre la partita sin dall'inizio. E anche quando loro hanno provato a rientrare col punteggio, siamo stati bravi a non mollare. Ecco, tu hai appena 21 anni, sei capitano però di questa squadra in A2. Com'è il rapporto da veterana, anche se parlare di veterana, insomma 21 anni è un po' strano, con le tue compagne più giovani? Siete una compagine molto molto giovane. Sì, siamo sempre più giovani in realtà, perché ogni anno l'età media si abbassa. Infatti mi fa sentire sempre più una mamma del gruppo questo. Infatti insieme a Francesca e Beraldo, siamo le uniche nate negli anni 90. E questo fa capire molto, insomma, della giovane età che abbiamo. In realtà ci conosciamo da molti anni, perché siamo cresciute insieme, sia giocando nella stessa squadra che scontrandoci anche con, per esempio, Francesca Pasa, che giocava a Ponzano, o Toffolo, che giocava a Marghera. E' una responsabilità, però in realtà è una cosa che l'avevo molto positivamente. Cerco di dare sempre il meglio, di dare l'esempio. Diciamo che... I risultati stanno arrivando. I risultati stanno arrivando, esatto. Non sono arrivati, invece, per questo fine settimana, i risultati legati alla Serie A1. Il fila è incappato in una sconfitta contro una formazione comunque ostica. Luca, e qui vado da Riccardo Andretta. Allora, ci eravamo lasciati con la bella vittoria contro Bologna. Adesso è arrivata, invece, questa sconfitta. 76-53, leggendo anche i report sul match, è parso una formazione, quella delle Lupe, lontana dagli standard a cui ci aveva abituati. Che cosa è accaduto, Riccardo? Sicuramente è stata una serata storta. I 53 punti segnati lo testimoniano per una squadra che fino a prima di questa partita realizzava 75 punti di media. Bjorklund nella partita precedente erano più di 30, se non sbaglio. Erano 35, ieri per lei 1 su 7 dal campo, questo la dice lunga sulle difficoltà che le Lupe hanno incontrato al tiro, percentuali di sicuro al di sotto di quello che era lo standard. Dall'altra parte, Luca ha trovato una grande giornata, ha messo a segno il suo record stagionale di triple. Hanno trovato il parziale subito nel primo quarto, questo le ha galvanizzate, hanno preso fiducia. Dall'altra parte, invece, San Martino non è riuscita a trovare le contromosse, si è un po' scoraggiata dopo questo parziale. Alla fine il risultato è sicuramente meritato per Luca, per San Martino un passo indietro rispetto alle prestazioni precedenti, però va ricordato comunque che quello di Luca, lo dicevamo anche qui una settimana fa, è un campo difficile perdere, lì ci sta. Luca si conferma non solo una sorpresa di questo campionato, ma piuttosto una solida realtà, una contendente serissima per i primi posti della classifica. Andiamo a vedere adesso i risultati e la classifica di questa Serie A1, comunque nonostante la sconfitta le Lupe rimangono ai piani alti della graduatoria. Vediamo i risultati con Palermo che vince contro Costa Masnaga 62-53, 85-77 per Torino su Bologna, altro KO per le Emiliane nonostante il cambio in panchina. Broni batte sesto San Giovanni 83-66, detto della vittoria di Luca sul fila San Martino 76-53, vittoria esterna anche per Empoli e Ragusa rispettivamente contro Vigarano e Battipaglia, bene Schio 85-76 nel big match contro Venezia. Alla luce di questi risultati la classifica parla comunque, come detto, delle giallonere ai piani alti, andiamo a vederla con Ragusa e Schio a 14, Lucca, Venezia e fila San Martino a 12 e Empoli 10, poi Broni, sesto San Giovanni e Vigarano 8 a seguire tutte le altre con Battipaglia a 0 punti. Riccardo, una sconfitta questa che può dare qualche insegnamento. Già Coccia Bignenta al termine della partita contro Bologna, seppur vinta, aveva avuto qualcosa da ridire magari sull'atteggiamento. È stato un problema simile oppure sono sorte, altre difficoltà e che cosa si porta a casa di positivo la formazione giallonera per aver imparato qualcosa da questa sfida? Guarda, dalle sconfitte si può sempre imparare, probabilmente più che dalle vittorie. Sicuramente, come dicevo, non è stata la migliore prestazione stagionale, anzi è stata sicuramente la peggiore prestazione stagionale, però da questo si riparte. San Martino storicamente ha sempre regito nella maniera giusta le sconfitte, attraverso una settimana di allenamenti importanti. Sono sicuro che anche in questo caso si lavorerà in settimana per capire cosa è andato storto e far sì che non ricapiti. Claudia, tu per, tra virgolette, questioni d'età, insomma, non puoi affrontare sia l'A2 che l'A1, quindi è stata fatta una scelta appunto nel darti la leadership della formazione di A2. Segui chiaramente le tue compagnie di A1, che opinione ti sei fatta, anche magari guardando le statistiche consentendo le tue compagnie, di questa sconfitta, di questo weekend per le Lupe? Sicuramente perdere in questa maniera non è mai bello e non è mai facile da affrontare, però, come ha detto Riccardo, l'importante è ripartire, quindi lasciarci alle spalle quello che è stato, lavorare solo sulle cose che non sono andate bene e le Lupe questo lo sanno fare alla grande, anche perché ritrovarsi in palestra poi è sempre una gioia e soprattutto il gruppo dell'A1 ricava in questo la sua forza, quindi sono sicura che già da domenica prossima andrà meglio. Ecco, torniamo un attimo al Fanola. Noi abbiamo avuto qui in apertura della stagione anche il vostro coach che ci diceva che quella che è iniziata sarebbe stata una stagione non facile. All'inizio vi danno tutti un po' in fondo alla classifica sulla carta e poi invece voi ogni anno comunque fate quello scalino in avanti che vi porta ben oltre questo iniziale piazzamento. Che cosa succede? Sbagliano all'inizio oppure siete voi che poi create un amalgama più solido rispetto alle aspettative? Diciamo che sulla carta la nostra giovane età potrebbe ingannare in effetti essendo appunto come abbiamo detto tutte molto giovani magari non ci si aspetta che riusciamo a dare tanto però appunto noi abbiamo sempre preso questo come un nostro punto di forza piuttosto che un punto di debolezza e quindi colmiamo magari quelle che possono essere le nostre mancanze fisiche ma anche tecniche tattiche con una grande energia, un grande entusiasmo e quindi alla fine sì i risultati sono arrivati anche negli anni scorsi e sicuramente non vogliamo fermarci qui. E adesso sfida contro Udine con il quale condividete il nono posto in classifica che sfida sarà? Sarà una sfida molto tosta e diciamo Udine è un po' la nostra bestia nera perché sia quando eravamo in Serie B che adesso che siamo in A2 non abbiamo mai vinto contro di loro e abbiamo sempre giocato delle partite punto a punto ma alla fine l'hanno sempre spuntata loro e c'è da dire che non sono in un grande momento loro Quindi bene approfittarne anche Quindi esatto, sicuramente faranno una partita molto dura però appunto siamo pronte Riccardo invece veniamo al resto della stagione del weekend per quanto riguarda la Serie A1 ci sarà anche una sorpresa al di là degli aspetti agonistici in occasione della prossima sfida Sì, domenica torna l'A1 a San Martino di Luper e alle 18 c'è la partita del fila con Vigarano prima appunto occasione di riscatto per le Lupe e durante l'intervallo ci sarà un po' uno spettacolo nello spettacolo perché sarà presentata ai tifosi la nuova mascotte Il costume è stato realizzato in questi giorni sulla base dell'aspetto che gli stessi tifosi hanno scelto tramite un sondaggio in rete così come tramite la rete hanno scelto anche il nome di questa mascotte che sarà Smarty, chiaro riferimento a San Martino di Luperi sarà una mascotte che promette di far divertire i più piccoli di animare comunque tutte le pause delle partite dell'A1 sicuramente domenica sarà uno spettacolo l'invito ancora più che in altre occasioni ai più piccoli di venire e divertirsi Vedremo anche il coach Avigniente sorridere un po' di più nel guardare Smarty oppure rimarrà sempre concentrato e spesso arrabbiato Diciamo che Smarty riuscirà a far sorridere anche il coach Miracoli quindi a San Martino battute a parte direi che è un'occasione da non perdere Riccardo io ringrazio te per essere stato qui Grazie alla prossima Claudia ringraziamo anche te ovviamente per essere stata qui e ti salutiamo salutiamo tutti i tifosi delle Lupe Basket prima del nostro brindisi benaugurante con le immagini di alcune tue azioni in maglia giallonera vediamo Grazie a tutti Grazie a tutti